Una fitta rete di relazioni e partnership, la concreta possibilità di unire domande d'offerta, la possibilità di far emergere casi reali di innovazione. È un vero e proprio generatore di opportunità per i partecipanti, il premio Best Practice per l'innovazione, l'iniziativa aggiunta alla sua undicesima edizione ideata dal gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, presentata questa mattina nei locali della sede di Via Madonna di Fatima. Rivolto alle aziende del manifatturire dei servizi che abbiano realizzato un progetto innovativo tecnologico di prodotto, di processo e sociale con risultati dimostrabili e misurabili, il premio, nato nel 2006, in questi anni conta il conseguimento di importanti risultati. Al suo interno è inoltre presente la sezione App Start Paolo Traci, dedicata ai giovani aspiranti imprenditori alle start-up. Sarà la stazione marittima di Salerno il 12 e il 13 dicembre prossimi ad ospitare l'evento conclusivo del premio, che ad oggi conta mille storie di innovazione provenienti da tutta Italia, che quest'anno prevede anche la realizzazione di un hackathon organizzato da Confindustria, Sella Lab e Università degli Studi di Salerno. L'undicesima edizione del premio, anche quest'anno racconteremo circa 100 progetti di innovazione, di cui il 60% provenienti dalla regione Campania, l'altro 40% da altre 10 regioni italiane, per un totale di 11 regioni, che afferma sempre di più il carattere nazionale del premio. Abbiamo sia aziende che start-up, nella filosofia del premio, che è quella di creare contaminazione tra aziende, start-up, centri di ricerca e principali attori dell'ecosistema nazionale dell'innovazione. Anche quest'anno avremo importanti opportunità per i partecipanti, messe a disposizione dai partner dell'ecosistema del premio, che sono circa una cinquantina e tutti prestigiosi. Il Sella Lab di Bangasella, Telecom, Digital Magics, fondi di investimento, piattaforme di crowdfunding. Quindi abbiamo i principali attori nazionali del sistema dell'innovazione che metteranno a disposizione dei partecipanti concrete opportunità. Le abbiamo quantificate circa in 100.000 euro di servizi messi a disposizione per i partecipanti, ma al di là del dato economico sono importanti le ricadute che si possono avere. È stato organizzato in parallelo al premio un hackathon che vedrà 50 studenti delle aree informatica, ingegneria gestionale, economia aziendale e anche di comunicazione, che raccoglieranno una sfida lanciata da due aziende, una in ambito logistico e un altro in campo ICT e lavoreranno due giorni con il supporto dei docenti e con gli altri esperti e con anche gli esperti di Bancasella che supporteranno i ragazzi nello sviluppare programmi applicativi per risolvere questi problemi che saranno posti dalle aziende. Due giorni per mettere i cervelli in moto, possiamo dire, per utilizzare il sapere e perché no per aprire le porte ad un'opportunità di lavoro? Sicuramente, per i ragazzi sarà un'opportunità per mettersi in mostra e per far valere le proprie capacità anche su un terreno più pratico. Per l'università ovviamente è un appuntamento importante perché dove c'è innovazione noi siamo presenti e questo, vorrei sottolinearlo con forza, dimostra anche un certo fervore che esiste sul nostro territorio.